Risparmiatori buongiorno, in questo video voglio parlarvi di qualche segreto per fare un budget familiare perfetto per avere più soldi e riuscire a risparmiare di più. Alla fine del video vi darò anche la mia formula per capire se state gestendo bene il vostro budget oppure no. Prima di partire mi raccomando iscriviti al canale e seguimi su Instagram se vuoi imparare a gestire al meglio i tuoi soldi e imparare a risparmiare. Allora facciamo un paio di considerazioni sul budget. Allora innanzitutto io lavoro con il budget annuale e tra poco ti farò vedere nella pratica proprio come faccio il mio budget annuale per la mia famiglia. So che è la parte più noiosa ma è anche la parte più importante perché rappresenta le fondamenta, ok? Io batto spesso su questo punto, sul mio videocorso ho dedicato addirittura 4 lezioni per quanto riguarda il budget perché veramente è lo strumento che mi ha permesso di svoltare. Cioè quando io ho iniziato a imparare a gestire i miei soldi e ho voluto dare una svolta alla mia vita, il primo strumento che mi ha dato una botta di consapevolezza, cioè che mi ha iniziato a far capire che cosa stavo facendo con i miei soldi, dove stavano andando a finire e soprattutto perché non mi bastavano e non riuscivo ad arrivare alla fine del mese, questo strumento è stato proprio il budget annuale, quello che appunto andrò a farti vedere tra poco. E mi dispiace perché è sottovalutato, è sottovalutato. Le persone spesso mi dicono Fabio ma io vado al supermercato, compro tutte le offerte, sono lì a centellinare il 10 centesimi, l'euro e tutto il resto, ma comunque i soldi non mi bastano. Quando chiedo loro se hanno un budget mi dicono no Fabio il budget non lo faccio, no Fabio non ha avuto tempo, no devo farlo ma... e questo lo vedo spesso anche nei commenti, quando mi scrivete in privato su Instagram e tutto il resto. E lo so ragazzi vi rompo le scatole ma dovete fare un budget annuale, questo è veramente il punto di partenza. Perché la chiave è avere la consapevolezza, allora quando parlo di svoltare, cioè la cosa che mi ha fatto svoltare sono stati sì gli strumenti ma cosa mi hanno permesso di fare gli strumenti? Di avere la consapevolezza ed è la consapevolezza che ti fa svoltare per quanto riguarda la gestione dei soldi. Come fai a prendere in mano la tua situazione finanziaria? Con la consapevolezza, perché? Perché sono io il padrone delle mie finanze e questo è proprio lo switch mentale che dobbiamo fare, cioè se non hai il controllo sulle tue finanze, se sei schiavo dei soldi, se continui a rincorrere il denaro ma non riesci ad arrivare ad una conclusione, è perché non sei tu il padrone, ok? Non hai tu il controllo sui soldi ma sono i soldi a controllare te e questo lo possiamo fare soltanto attraverso la consapevolezza. Come faccio a prendere consapevolezza delle mie finanze? Iniziando con il budget. Quindi vabbè dopo questa premessa, dopo averti fatto un bel pippone, iniziamo un pochettino con la pratica. Perfetto, allora questo che hai davanti è il personal budget planner, che è uno strumento che ho creato io personalmente per fare il budget e per gestire i propri soldi. Se vuoi trovi il link nella descrizione di questo video per averlo, ad un prezzo super scontato, ho deciso di fare un piccolo sconto proprio per questi giorni. 7 euro ragazzi, è veramente una cosa irrisore, un piccolo investimento per iniziare a prendere sul serio la gestione del denaro. Ora, come ho fatto questo budget? Come vedi è appunto annuale, quindi va da gennaio a dicembre e ogni anno io vado a rifare un nuovo budget. Perché? Perché le cose cambiano e quindi devo tenere traccia delle mie spese. All'inizio quello che metto subito sono le entrate, ok? Io ho messo delle diciture qui che sono quelle più o meno standard, poi ovviamente ci sono anche degli altri spazi dove invece si possono aggiungere delle entrate o delle uscite nel caso ci siano personalizzate. Quindi potete personalizzare questo file come volete. Tra l'altro ragazzi c'è anche la versione Excel per chi si trova meglio. Questa è la versione di Google ma volendo c'è anche la versione Excel. Quindi stipendio marito, stipendio moglie, assegno unico. Ora qui uno dei segreti per fare un budget familiare perfetto è quello di cercare di tenere sempre una media, ok? Perché se noi iniziamo a cambiare le cose ogni mese non facciamo altro che fare confusione. Quindi se noi facciamo una media e cerchiamo di tenere all'incirca su quella media tutti i mesi ecco che riusciamo a gestire meglio il nostro budget soprattutto all'inizio. Quindi qui semplicemente quello che andrò a fare è segnare lo stipendio che è la previsione dello stipendio di mio marito in questo caso e poi della moglie. Ora il punto qual è? Il budget non va cambiato ogni volta cioè quello annuale una volta che l'ho fatto va magari riaggiustato ogni 3-4 mesi ma non è che ogni mese lo vado a cambiare perché a gennaio ho preso 1.500, a febbraio ho preso 1.560, no vado a mettere la media quindi sempre 1.500 sarà un copia e incolla praticamente semplicemente andrà a cambiare quando magari a luglio se ho la quattordicesima e a dicembre se ho la tredicesima, basta ok? Poi vado a tenere tutto in media, la moglie non so magari lavora part time e ne guadagna 800 e quindi andrò a segnare 800 tutti i mesi, ok? Sotto che cosa ho fatto? Ho diviso per categorie le uscite, questo perché? Perché avere delle categorie ci permette di capire dove stiamo spendendo troppo, dove stiamo sforando e tra poco ti darò anche dei parametri appunto per capire se sei in linea con quello che secondo me potrebbe essere una formula perfetta per gestire il proprio budget quindi nella prima categoria abbiamo le necessità, le necessità che cosa sono? Quello di cui non possiamo fare a meno anche qui ragazzi dobbiamo fare veramente una distinzione tra necessità e comodità o sfizi perché a volte le persone fanno veramente fatica a distinguere questa cosa per assurdo, ora vado un pochettino all'estremo però se uno ha una situazione familiare difficile deve andare veramente a fare questo tipo di ragionamento Il divano, no? Il divano è una necessità oppure no? La risposta è no, cioè un divano, non è che se tu non hai il divano non puoi vivere, non puoi sopravvivere è vero, è meglio averlo, è una comodità, magari è qualcosa che ti piace fare, ma non è strettamente necessario per la tua sopravvivenza so che sto andando all'estremo ma in alcuni casi ci sono le persone che mi dicono eh sì ma poi avevo bisogno il divano, ho dovuto cambiare il divano, l'ho preso a rate ho speso 2000 euro e ho l'arata da 100 euro al mese per due anni, ok? Lì non è strettamente una necessità, so che a volte è dura ma non è qualcosa che mi serve per vivere per vivere, la spesa mi serve per vivere, la corrente mi serve per vivere perché se no non può andare il frigorifero, la lavatrice e tutto il resto l'auto che mi serve per andare a lavorare, non so, i detersivi per pulire la casa, i vestiti sono una necessità, ok? Ora non il vestito fashion o la scarpa fashion ma ti serve una scarpa e dei vestiti, ok? Quindi semplicemente qui quello che andremo a fare è mettere una media, vabbè l'affitto mutuo uguale quindi per le spese condominali ad esempio io per comodità vado a dividere la cifra per 12 mesi so che magari hai il bollettino che capita ogni due mesi o tre mesi, adesso non so perché poi ogni amministratore ha il suo io qui vado a fare una media, se ho ad esempio non so 3000 euro l'anno vado a dividere per 12 sono 250 euro al mese, ok? Quindi questo è un po' il mio concetto, uno dei miei segreti per andare a gestire il budget quello di andare a fare una media anche mensile delle spese come ad esempio la bolletta della luce so che ad alcuni magari arriva bimestrale ma vai a dividere la spesa annuale mensilmente per 12 oppure la spesa bimestrale che più o meno dovrebbe essere sempre la stessa la dividi mensile quindi sai ogni mese quanto vai a spendere, non lo so potrebbe essere 150 euro mensili adesso sparo di bolletta luce che è tanto, vabbè io pago molto meno però vabbè questo è un altro discorso non andremo a parlare in questo video e così via anche i detersivi quindi lo so che magari non li compri tutti i mesi ma più o meno mensilmente quant'è quello che spendi, ok? Vai a fare una media e vai a segnare qui in questo modo hai un qualcosa che è molto più omogeneo, ok? Anche non so, il dentista ad esempio, so che il dentista magari non c'è sempre magari hai, fai la pulizia, hai i tuoi figli come faccio io però la media mensile di quello che ti costa il dentista quant'è? poi se vuoi quello che puoi fare è andare a farti una busta, utilizzare un'app non dico un conto corrente ma magari crearti dei salvadanai in qualche modo dove ogni mese vai ad accumulare questa cifra che è specificatamente per il dentista e poi quando lo devi pagare prendi i soldi da lì e sai che quel pezzettino del tuo conto quel piccolo budget è destinata a quella spesa, ok? Anche questa è una cosa molto comoda per gestire i soldi io mi trovo benissimo facendo così perché so già che questo lo utilizzo per questo questi soldi li metto via per questa cosa, questi altri soldi li metto via per magari un obiettivo ok? Quindi non vado a fare confusione per gestire i soldi una cosa fondamentale è fare chiarezza, ok? poi niente qui ci sono anche delle categorie che potete aggiungere vi ricordo ragazzi il file questo qui che utilizzo io se volete appunto lo trovate nella descrizione del video poi c'è la sezione dei debiti e dei prestiti questa dovrebbe essere vuota ma so che non è facile e quindi diciamo che l'obiettivo è quello poi di svuotarla e di non averla più divertimento, anche qui dobbiamo andare a fare una media cinema e spettacoli, hobby, libri io ho messo più o meno quelle che possono essere le voci di spesa un po' più classiche diciamo poi ne potete aggiungere quello che volete gli optional ora, gli optional è tutto ciò che non è necessario anche questo in teoria per chi magari segue la filosofia del minimalismo dovrebbe essere vuoto perché tutto ciò che non è necessario, tutto ciò che è superfluo non dovremmo averlo cioè non dovremmo spendere soldi per questo e già fare questo ragionamento ti fa veramente risparmiare un sacco di soldi ma siamo anche esseri umani e se tu fai una scelta consapevole va bene farlo, ok? ma anche qui ad esempio possiamo destinare un budget nella mia formula poi ti farò vedere che c'è un budget destinato alle optional perché? perché per il mio modo di vedere le cose risparmiare e gestire i soldi non è soltanto fare sacrifici non è soltanto fare rinunce ma è fare bene il budget farlo in modo bilanciato non vivere al di sopra delle proprie possibilità per appunto avere anche dei soldi che dico ok questa cosa qui è necessaria no però mi va di comprarla me la posso permettere? la compro ok ovviamente questa parte non deve essere non so il 20-30% delle mie spese perché se no non va bene ma se è controllato e se lo decido in modo consapevole perché no? poi niente andando avanti ragazzi poi ci sono qui gli abbonamenti le spese annuali ora spesso nelle spese annuali quando faccio dei reel su Instagram mi criticano o comunque alcuni non capiscono che cosa sono le spese annuali per il mio modo di vedere le cose le spese annuali sono tutte quelle cose che paghiamo una volta all'anno quindi potrebbe essere l'assicurazione dell'auto piuttosto che l'assicurazione non so della casa la tassa dei rifiuti o altre spese che sono annuali ma stesso anche non so l'iscrizione dei ragazzi allo sport che molto spesso la paghiamo a settembre cioè è una spesa annuale per come la vedo io perché si cade una volta all'anno ma io posso spalmare questa cifra in 12 mesi per evitare di avere il carico su un mese solo e me lo metto da parte come dicevo prima su un'app su un salvadanaio in un'app lo divido ormai l'onbanking ti dà anche modo di dividere in obiettivi magari appunto le tue spese o fisicamente voglio fare una busta con dei contanti all'interno però questo mi permette di avere come dicevo all'inizio una media mensile sempre più o meno uguale tutti i mesi e di non avere una spesa caricata su un singolo mese ok quindi queste sono tutte le spese annuali anche qui potete mettere tutto quello che volete gli imprevisti allora la categoria imprevisti ovviamente se è un imprevisto io non posso sapere se cadi o no e io ho un conto degli imprevisti ma se voglio questa è una cosa proprio una cosa in più però ho voluto mettere lo stesso potrei destinare un tot di soldi per degli imprevisti che mi succedono ok quindi non so metto da parte 20-30 euro al mese quando mi succede l'imprevisto magari non lo pago tutto ma una parte ce l'ho lì ok e questo posso posso anche utilizzarlo poi ci sono i risparmi i risparmi come sapete io lo dico sempre vabbè poi nel mio corso lo spiego in modo dettagliato ma questa è un'altra cosa dobbiamo risparmiare almeno il 10% delle nostre entrate tutti i mesi ok questo dovrebbe essere un obiettivo per chi magari adesso in una situazione dove non riesce a far quadrare i conti arriva a fatica alla fine del mese il primo obiettivo è far quadrare i conti e far saltare fuori il 10% di risparmio tutti i mesi che andremo a mettere da parte per gli imprevisti quelli magari un po' più importanti o per obiettivi futuri che ne so devo cambiare la macchina so che bene o male la mia macchina durerà non so altri 5-6 anni inizio a farmi un fondo dove metto pian piano via dei soldi e quando devo comprare la macchina magari non la compro tutta in contanti ma magari ho la metà e soltanto la metà la devo finanziare e questo tante volte fa una differenza perché mettersi addosso una rata da 200 euro e mettersi addosso una rata da 100 cambia soprattutto se la rata magari dura 2 anni 3 anni ok quindi qui i risparmi anche li posso dividere poi qual è il segreto per un budget perfetto il segreto è andare anche a tracciare le spese perché molto spesso trovo persone che mi dicono Fabio ma io mi segno le spese tutto quello che spendo me lo segno ok ma se fai soltanto il tracciamento delle spese ma non hai anche il budget annuale non va bene non funziona perché tracciare le spese non significa darsi degli obiettivi darsi dei limiti ok io nel budget nella mia pianificazione del budget ad esempio non lo so la spesa alimentare mi posso dare anche degli obiettivi posso dare dei budget perché se io decido che voglio spendere 600 euro per la spesa posso anche ragionare al contrario e andare a capire come posso raggiungere l'obiettivo di spendere 600 euro al mese per la spesa adesso faccio un esempio ok questo mi permette di adeguare il mio comportamento mettiamolo così a quello che mi posso permettere ok quindi adeguare il mio stile di vita alle mie entrate non il contrario se io vado soltanto a tracciare le spese cosa succede che quello che spendo cioè non è che mi do un limite non è che perché traccio le spese allora significa che mi sto mi sto dando dei parametri per rispettare i miei budget ok quindi il segreto qual è fare un budget e tracciare le spese per capire se sto rispettando quei budget ok le due cose questo è un po' il segreto devono andare di pari passo uno se faccio soltanto il budget annuale senza tracciare le spese non va bene perché poi io effettivamente non so se sto rispettando quel budget allo stesso modo tracciare soltanto le spese non facendo il budget annuale non mi dà modo di capire se lo sto rispettando ok quindi questo è un po' un pochettino il mio segreto in questa parte io ho voluto inserire appunto in questo file anche l'inserimento dei dati dove io posso mettere all'inizio la data ad esempio qui posso mettere la data quindi inserisco il 6 maggio 24 ecco che qui il file mi prende la data e poi qui cosa succede che posso andare a mettere le categorie quindi non so le necessità poi qui avrò le voci di categoria che io avrò messo nella scheda precedente quindi ad esempio non so farmacia ho speso 30 euro ok qui cosa succede che nella pianificazione del budget ad esempio nella farmacia poi su maggio non so io la media che ho previsto nel mio budget è di 50 euro e infatti poi se vado nella dashboard nella voce necessità io vado a vedere se sto rispettando il budget e quanto è il budget rimanente in questo caso avevo previsto 50 euro ne ho spese 30 rimanente 20 ok questo mi fa capire se sto rispettando il budget se lo sto facendo nel modo giusto e quant'altro ok ora qui io non ho compilato il tutto però giusto per farvi vedere un po' come funziona questo file poi avete anche dei grafici che vi danno tutta la divisione delle spese effettive che voi state facendo ok e qui nel flusso di cassa invece ho anche il confronto mese per mese delle entrate delle uscite e tutto quanto comunque ragazzi acquistandolo avete anche un tutorial che vi spiega per filo e per segno come utilizzare questo budget mi raccomando link in descrizione prezzo super scontato ora ragazzi chi mi segue su instagram magari avrà già visto questa formula che ho creato per la gestione dei soldi chi non mi segue non l'ha visto comunque ve la faccio vedere qui come potrebbe essere una divisione dei soldi per sapere se lo sto gestendo bene molti di voi magari conosceranno la formula del 50-30-20 che però secondo me è un po' non è proprio perfetta perché 20% di risparmio non è semplice da raggiungere però io ho fatto questo allora il 60% delle vostre entrate dovrebbe essere destinato alle necessità quindi tutto ciò che è necessario mutuo affitto spese bollette vestiti salute ok il 10% risparmio per gli imprevisti come vi ho spiegato prima il 5% per le spese annuali come abbiamo visto poco fa 15% per lo svago quindi tutto ciò che è divertimento compreso anche lo sport poi il 5% per gli optional come dicevo prima anche gli optional ci devono essere perché ogni tanto io va bene questa cosa qui è superflua non ne ho bisogno ma ho voglia di farlo devo poter avere la libertà di concedermi anche a volte delle cose che non sono necessarie ovviamente se tutto il resto è a posto cioè se i risparmi sono a posto le spese annuali sono a posto le necessità sono a posto allora un 5% me lo posso concedere altrimenti no altrimenti è un problema l'altro 5% è destinato alle spese a medio o lungo termine ok questo è veramente importante perché nel lungo periodo ovviamente noi dobbiamo fare un percorso nella gestione dei soldi però andando avanti nel tempo se io riesco a mettere da parte questi soldi ogni mese potrei arrivare anche ad eliminare completamente i finanziamenti e questo è veramente molto importante perché smettere di basare la propria vita sui debiti è sintomo di libertà sintomo che stai gestendo in modo sano i tuoi soldi e che le tue finanze sono sane ora qualcuno mi potrà dire sì vabbè ma Fabio ma se io faccio il tasso zero cosa mi cambia mettere da parte 100 euro al mese e poi comprare una cosa tra un anno e fare un finanziamento dove pago 100 euro al mese te lo dico io qual è la differenza è che se tu hai fatto un finanziamento e un mese non riesci a pagarlo due mesi non riesci a pagarlo tre mesi non riesci a pagarlo diventa un problema se invece tu li metti da parte e poi lo compri alla fine se per due mesi non riesci a metterli da parte non è un problema hai soltanto magari posticipato quella spesa di due mesi ma è un qualcosa di diverso bene ragazzi quindi siamo arrivati alla fine di questo video sul budget vi ricordo il link in descrizione per acquistare il file e gestire appunto le tue finanze con il file che utilizzo io che ho creato io ovviamente lascia un commento se hai una domanda iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e noi come al solito ci vediamo in giro